Ciao a tutti ragazzi, questo sarà un altro unboxing, sì per adesso ho comprato un paio di cosine nuove ho trovato qualche sconto e quindi ho deciso di fare qualche piccolo acquisto online allora, questo qui sarà l'unboxing di Mr. Wonderful, non so se lo conoscete, è un marchio spagnolo che vende molte cose carine, soprattutto di cancelleria, tazze, sono anche molto carine le idee regalo che fa, a dire la verità comunque, intanto vi volevo far vedere lo scatolo che è qualcosa di meraviglioso, cioè non ho mai visto uno scatolo di imballaggio così fatto così tutto carino con tutte queste scritte, infatti ho deciso di conservarlo ci sono le scritte sia in italiano, sia anche in altre lingue, in spagnolo, tipo questa qui in francese perché se non so se siete mai andati sul loro sito ci sono veramente tantissime cose e adesso vi farò vedere che cosa ho preso io, allora praticamente la scorsa settimana, credo che fosse il venerdì venerdì scorso, oggi è 27, quindi domani che è 28, meno 7, il 19, se non sbaglio è solo venerdì 19, se non erro e questo marchio Mr. Wonderful compiva 7 anni dello shop online e quindi mi era arrivata una mail, sono iscritta alla loro newsletter ma non avevo mai comprato nulla in cui dicevano che se avessimo, se fosse fatto un piccolo acquisto anche minimo sul loro sito avremmo ricevuto in omaggio una borsa, una bag per il mare allora a quel punto ho detto vabbè, prendo una cosina, magari una tazza visto che faccio la mia collezione di tazze e così almeno ho anche la borsa in regalo, adesso vi faccio vedere che cosa ho scelto allora, sono giusto proprio, una cosina solamente ho preso che è esattamente questa tazza con la scritta dormi meno e sogna di più con questo koala, veramente un amore guarderei che bella confezione, sorridi oggi la tua giornata troppo bellina confezionata veramente molto carina, vero Claudia? troppo bellina quando e come utilizzarmi? cioè vabbè, te lo devo dire loro quando puoi utilizzare una tazza ma comunque puoi essere fiero di me con i tuoi amici, colleghi di lavoro, con la tua famiglia se ti puoi utilizzarmi anche come portapenne, non ti dirò lì no, sono la più adatta insomma, vi dice come utilizzarla disegnata a Barcellona appunto come vi dicevo, Mr. Wonderful è un sito spagnolo diciamo, cioè è un sito italiano però lavoro in Spagna questo è l'unico acquisto e questa l'ho pagata a 13,95 euro poi come vi dicevo questa qui era la borsa che hanno dato in omaggio è una borsa, vedete, trasparente, tutta glitterata guardate che carina, per il mare ovviamente, per l'estate con la scritta, it's going to be Mr. Wonderful veramente molto 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 bella che se non sbaglio, cioè se la comprate costa tipo solo 10 euro se non erro quindi non è male alla fine come regalo e poi in più mi hanno omaggiata di un'altra cosa veramente non era stata richiesta ma secondo me lo metteranno in tutti gli ordini questo è una calamita, come vedete, è una calamita di quelle tipo come segnalibro soprattutto se qualcuno di voi è una cartopazza e ha l'agenda io per esempio ho l'agenda piena di questi fermafoglio è sempre targato Miss Wonderful e c'è l'unicorno veramente bellissimo, vedete c'è scritto la nostra è pura magia sì sì, il tuo ordine, infatti vedere, siccome c'è proprio il cartoncino con scritto il tuo ordine, Mr. Wonderful è già qui sarà proprio una cosa che mettono in automatico nel pacco cioè a prescindere da quello che voi comprate aspetta che lo dietro amore vedete, infatti ti vorremmo ancora più bene se pubblicherai una bella foto con l'hashtag Mr. Wonderful Shop ovviamente io adesso creerò una bella foto da pubblicare sul mio Instagram a proposito, se volete seguirmi su Instagram sono Megucchias Megucchias scritto con 2k IAS finale in modo che mi potete seguire anche lì dove io ogni giorno pubblico qualcosa della mia vita anche qualche storia ogni tanto e va bene, quindi questo qui era l'unboxing di Mr. Wonderful fatemi sapere se lo conoscete se avete mai comprato qualcosa ovviamente non è una collaborazione ho pagato io con i miei soldi visto che in giro c'erano tanto video di collaborazioni omaggi, regali no, l'unica cosa che mi avete visto di cui mi hanno omaggiato mi sono iscritta a questo a quel sito che vi ho detto Trend Italia e dovevano scegliere dei tester delle persone da provare una crema e mi hanno regalato la famosa crema della Garnier stop, mai più nulla quindi non mi hanno regalato niente anche tutto il resto che voi vedete nei miei video non è mai regalato a meno che non siano regali di compleanno o di altro quindi il mio ordine era questo la tazza, la borsa e questo qui che regalano secondo me a prescindere da ogni ordine va bene, ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti